ahahah da te mi dai ragazzi ma che mi vuoi vicino per acutare fai il tuo Wargames di più in voce aspetta aspetta dai lancialo quello scartato da deselezione no 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 è che non è reattivo è stato scartato è un'altra cosa incredibile che ti senti in grado di fare Geronimo assisti anche a sfondo alla porta usa un gigante per saltar giù e aprirti un barco nella roccia lesionata attenzione con leggerezza ma chiara c'è lì dietro un culo di oggetti perchè si scuoteiono ah il bottino della guerra mi raccogliere tutti sotto te ma quanto sono ingaggiato ma quanto sono ingaggiato questa è una fossa di cionpi un luogo sgradevole in cui gli Archeian rinchiudevano i prigionieri sconfiggi tutti i nemici qui dentro per aprire questo portone oh un forte mi ha messo la chapa per la stracca mi ha messo la chapa per la stracca mi ha messo la chapa per la stracca ma un po' il portone si è aperto ma c'è il portone si è aperto ma per quello del Giacobaldi ce l'hai già se sei contento e ho il gigante col martellone ehi qua su Skylander usa quelle petane elastiche dai forza per una miliare di soldi allora mi scuso per tutti per la mia volgarità per raggiungere la città con tutti anche per l'italiano scusasi magari non lo faccio apposta non lo faccio 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 beh beh che cazzo però ma smetti allora vabbè sono una persona volgare ah sei tu un uomo di un specchio che ci stai aiutando a scappare se hai bisogno di un po' di potere extra laggiunge qualcosa che potrebbe farti comodo l'unico problema è che devi essere dell'elemento della vita per arrivarci via e questo è un altro modo per far anche vision e i deletti di carta quanta differenza c'è sincero eh di vision bx ma il bambino e se vuoi fare il platino ma comprane lì beh no devi andare a corritori in bicicletta è un trip questa no no ma eh non lo faccio non lo faccio non lo faccio ma è non lo faccio guarda 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 rispingilo qua o valla a qualcosa ho detto anche tardi vuole è che guarda un'evità che guarda che guarda che sei è che sei qui ma perché hai vieno scritto spot a te forse valla che vuole no valla non so fare niente apparentemente ho trovato qualcosa no una melanzana ah no un cappello fatato più di velocità vai gdr adoro questo si è e ti ha parso toglimelo subito sei sexy toglietemelo subito sei sexy nooo si salta nooo che abbiamo fallito questo gioco non si salta deve andare a uscidere quel coso non cazzo no no ma non si può usciderlo no no vabbè però non lo porto là giù sta arrivando cerca di fare anche un porcino da uscidere adesso c'hai ahahahah ahahahah vieni qua un attimo che devo dire una cosa vieni qua direi ah no non lo sta facendo dalle strade ci siamo skylander no è compratto con lo skylander per avere una strada bonus è lui è lui che ci trattiene tutti qui e credimi è proprio io tosto ahahahah vedi? ma se tu riuscissi a spezzare le catene che lo tengono su badaboom potremmo tornare a casa quella catena non mi sembra molto tirata siamo sicuri che serve per tenerlo su quindi che cosa di fare? chi è skylander dell'elemento arti adesso no porti in questa alzata ahahahah guarda che arriva il tremore poi trovo un uomo fai di farla mettere io capito io taglio primi i 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 primi devo ammettere che questo mi sta piacendo un po' oh leo questo ti starebbe benissimo secondo me p5 armatura non puoi non metterlo cioè vediamo quanto è orrendo si sarà perfetto eh mi ricordi quello di prima che dialoghava con i primi potevo potevo essere più brutto no non è vero lo sai ti stanno costruendo la faccia eri anche un persona più bella guarda mi fa più uno di loro adesso vado a comprare i primi 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 vedi ma se tu riuscissi a spezzare le catene che lo tengono su ancora la tua bada boom bada boom bada boom ma ci mettiamo sotto marrakesh il bordello che fa si siamo salvi ma perchè si rifatti ci siamo skylander quello è bada boom cioè fa oh grazie non male un po' e se te neanche che si può ma per quanto fuoco oh no è mitico ma che ti schiappa è che c'è una boss fight torna subito al tuo posto e riprendi a scambiare i padroni arcanian oppure aggettivi in qualsiasi altro gioco e adesso ti ammazzo che stengono ogni tentativo di sconfiggermi ti vedi che non c'è un foto anche per sé che non c'è un foto di colonna ehhh è un'enigma ambientale iniziatante la veloce passa no male le ho preso non comprate altrimenti questo aveva subito un mio motore venga e tanto se non fosse una cosa che vantate cosa è male forse di me è il poter scoprire una pietana elastica boing boing Oddio, devo venire di là, no, no, aspetta, ah, dovete avvicinare qua fuori, ma fa poco morire il dono qua, oh, oh, ho perduto l'equilibrio, corre, corre, che mi farà cogliere due monete in più, guarda che è setup, un miro, tipo la roba che non perd priva le né a Exercise, no, define qua driven had, assolutamente, non authoritative porto no per me no i primi crash torniamo al milagio aiutare ok aiutano si grazie forse non ha salvato un esercizio di nanti il risultato scambi a sconfiggere gli archivi così in te la scaglia il negozio ora abbiamo fatto da un poco tipo mancato il tesoro leggendario i cappelli i forzieri, la pergamena, la ruota prima ho detto che abbia fatto un obiettivo su 3 che schifo vabbè fai continuo tanto direi che questo lo blocchiamo qua si dai facciamo la fine del video quello fu solo l'inizio di una grande battaglia ah perchè la fine del pro che gli invasori archean avevano già conquistato gran parte di Sky per riuscire a fermarli i giganti affrontarono i re li voglio li voglio sottraendogli la ponte non so potremmo il cugno di fai la gigante la regina dei giganti no no ok tu dicevi la Vespa lui dicevo Macellone si ma hai visto? volo fa molto speciale ah non mi ricordo tantissimo quindi questo c'è un pro come i giganti i giganti mi metteva la ponte mi furoneggiando quella guardalo 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 in commenti è dio ok è bello anche lui e vedi del poison questa è l'evoluzione questa è l'evoluzione fatta gigante guardalo 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 è lui il protagonista lancia la Vespa ma stendo si svolta rotto il braccio rotto il tutto stiglia di fermo ti piace vincere faccio una gantana basta il gingolo e basta guarda quanto è bello questa vittoria costò molto cara guarda i giganti vennero scacciati da skylight e non furono più utili i martelli i martelli sono subito per farciò che vinti qua vinti l'amore a 300 euro di scherzo per giocarlo non devi far tanto due senti no però per quanto ti vuoi dire quanto li vuoi cambiare se sei disturbato come me o sei se li vuole tu se li vuoi tutti e allora senti ti dante cerco bello per dare devi avere personaggi una daria però no eh ma tattatene da tre tipi ci sono otto otto tipi eh vabbè ti fai quell'investimento lì però secondo me è perfetto per i bambini per tenere uno per volta mia madre quando lo compro io o quando lo compri tu è grave per pericolo tu quando ero cino mia madre ciao mamma mi comprava le tartarughe ninja le nascondeva nell'armadio e me le dava una ogni settimana ogni settimana questa è perfetto per i bimbi perché si comprono un tocco di skylander se li da uno per volta che lo metti su lo provi i giochi comprami tutti gli skylander e dammi uno schifo tu non sei un bambino e io non sono un tuo genitore ti accuprati tutti gli skylander e dammi uno ogni settimana ma tutti insieme perché non ogni settimana coprati due o tre portali per arricchirli coprò uno stock di skylander per essere sicuro di avere le varie lo zuc zuc grido voglio adesso è che ho un mattino di grigliarmelo è piccato sarei curioso di vederlo messo sulla bolletta se non il gioco cambia è grigli argentato illumina tutta la stanza partire subito c'è molto da fare ma dobbiamo guardare proprio le talpe che parlano che parla che c'è mai parlato sopra e continuano di dire le parole basse a quanto pare il destino ci ha fatti incontrare di nuovo che il destino è ovviamente la mia mia resistenza strano bene però finora una porra scolta anche anche le chiare sono non so che è questo oro ma per l'altro mi voglio di prenderlo subito per giocarci oppure di giocarlo a pochi non è proprio grande non lo so anche se sarà meglio se prima ci procuriamo un paio di pezzi di ricambio sai come per me il materiale per la vita di pensione l'ho deciso per il 10 l'ho deciso per il 10 no ma è vero può andare oltre all'9 direi per la grafica e ma adesso vediamo com'è sul PS3 Xbox 360 devi tenere conto che la versione del PS3 arriverà stiamo anche giocando su component invece che su l'academia arriverà molto velocemente quindi la grafica potrebbe aumentare comunque dai siamo al capitolo 2 salutiamo interrompiamo e poi ripartiamo adesso vediamo vediamo un altro vediamo che vi siete divertiti molto tanto compratelo mi raccomando perché è una figata cosa che vuoi trovare qui a tu? è una figata devastante per capire quanto comunque può essere profondo ma è anche qua sono anche qui tutte le varie arrivi proprio al momento giusto tutte le varie armi che possiamo trovare la prima delle cose che ci serviranno per questo viaggio è forse la più importante di tutte ora andrei a prenderla io stesso se non fosse che a causa di un mal intenso ci vediamo con il prossimo video e speriamo che vi sia divertito lasciate qualche commento per chi mi piace spammate nei forum mi vedetelo agli amici comprate il gioco così se tu potessi andare a prenderla nel frattempo io e Cari potremmo ultimare qualche riparazione no non li da nessuno io adesso stacco un assegno perché devo farmi anche la serie vecchia chiedere anticipo sul trattamento di fila rapporto a lavoro per poter acquistare tutti gli schallender vecchi basta dai ciao a tutti